Oggi ci troviamo nella natura più incontaminata dei Monti Dauni. Siamo a Biccari, alle falde del Monte Cosnacchia, nelle imminenti vicinanze del lago Pescara. Dauni Avventura, dopo la scuola nel bosco, propone il teatro nel bosco. Qui vedete questo anfiteatro naturale che ben presto ospiterà i primi concerti. Di che cosa si tratta lo chiediamo a Mario De Angelis di Dauni Avventura. L'idea che abbiamo avuto era quella di mettere a disposizione nel nostro bosco, il bosco didattico, questo spazio che è venuto fuori dall'attività di sistemazione idraulica. In quest'area, in questo momento di pandemia, rilanciare e mettere a disposizione degli operatori dello spettacolo per ripartire era un segnale molto forte che volevamo dare al territorio. Quindi siamo partiti con questa iniziativa. Immaginiamo di poter fare il primo evento a fine maggio, se chiaramente i dati pandemici ce lo permetteranno. Ma è un'iniziativa che chiaramente noi già abbiamo fatto in passato. Abbiamo citato la scuola nel bosco, abbiamo citato anche attività nell'ambito del teatro, della musica. Quindi voglio dire, seguiamo quel filone già iniziato anni fa. Sindaco Biccari non si ferma più dopo la scuola nel bosco, arriva il teatro nel bosco. Sì, il bosco è un po' il nostro target di riferimento. Abbiamo pensato che si poteva ripartire insieme con il binomio cultura e natura per favorire dei nuovi spazi culturali fruibili in sicurezza, soprattutto dopo tanti mesi di chiusura e di sospensione di tutte le attività artistiche. In bosco si possono fare tante cose, riscoprendo la voglia di stare insieme, ma stando all'aria aperta e quindi al sicuro e insieme.